Qual è la canzone di Mimì? Beh, intanto ce n'è una che mi fa impazzire quando era Mimì Bertè E ed ora Che abbiamo litigato per una stupidata vogliamo farla a pace oppure no E ed ora mi dici che è finita Quella, io la voglio ricordare così adesso E ed ora Che abbiamo litigato Vogliamo farla a pace Se vuoi che ci lasciamo me ne andrò Mi dici che è finita Ne sei proprio sicura Tu ci dici all'aspetta, caro amore Cerchiamo di concludere Perché non voglio che Domani tu mi cerchi ancora Perché lo sai, lo sai Non tornerò da te E ed ora Che abbiamo litigato Per una stupidata Vogliamo farla a pace oppure no Poi un giorno hai scritto una canzone dedicata Annia Martini Che era una canzone per te importante Forse era un modo per raccontarla Per cercare di raccontarla al pubblico Io avevo scritto la musica Come di solito Come di solito accade E gli altri brani Vennero fuori proprio Con la solita irruenza Proprio Gettavano inchiostro da sole queste parole Quando affrontai questo brano Che era la grande assente Dovevo mettere le parole su questo brano Dico ma Allora mi misi la cuffia E ascoltavo sta cosa qui E mentre ascoltavo Proprio senza accorgermene La mano Perché io scrivo col computer Ma quando devo trattare Determinati argomenti Io uso la penna E il foglio di carta E così fu Io presi la penna E queste parole Mi venivano giù così Alla fine Il testo era pronto Allora andai giù nello studio Registrai sulla base Sul provino La voce Poi chiamai Olivia La sorella di Loredana E di Mimi E chiamai Alba Calia Questa nostra amica comune E poi chiamai anche Loredana E gli dissi Io ho scritto questa cosa Mi piacerebbe Metterla nel disco Però prima di farlo Volevo conoscere Il vostro parere In merito a questo E misi questa canzone E naturalmente Parecchi Non ce n'è uno in particolare E' una mancanza Di stelle quotidiane Forse il nostro compleanno Mai festeggiato Perché i nostri genitori Purtroppo Essendo due statali Prendevano lo stipendio Il 27 E noi facendo il compleanno Tutte e due Il 20 settembre Non c'era Una lira in casa Ma nemmeno la voglia Di dirci Scusate E così La situazione Buon compleanno Quindi non esisteva Erano cancellati Tutti i compleanni Negati Cancellati Non esistevano E crescere così Ma Mi sembra Alla fine Io e Mimì Eravamo talmente abituate Dicevo Mimì Buon compleanno Io gli davo un pasticcino Mettevo su una candelina Me ne mangiavo un altro io Buon compleanno Mimì Buon compleanno Ciao Dopo l'amore Siamo un essere solo Dopo Dopo l'amore Io ti vedo così Dopo l'amore E continuare a sognare Quando tu racconti Mia Martini La racconti sempre Con due sentimenti Antagonisti Che sono L'allegria E il dolore E' così E' così Perché lei non aveva Ahimè Mette misure Che quella E' una fortuna Anche perché Fra Fra Il dolore E' l'allegria C'è anche Ci sono Degli Stadi Che vengono Chiamati Diplomazia Vengono Chiamati Furbizia Talento Per 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 piacere Per farsi Accettare Cioè Questi Accomodamenti Mimì Non l'ha mai avuti Magari Ce l'avesse avuti Non le aveva Cioè Era carente Proprio Di quella Furbizia Di quella Scaltrezza Di Capito Di Farsi benvolere Di farsi amare Forse anche questa Che è la ragione Che Facilmente L'ha resa Preda Di questi sciacalli Che mandarono in giro Ste voci Perché Lei era disarmata Perché Non si può difendere Una persona Se 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 Gli Mancano Proprio Quelle Quelle Quei supporti Quegli Quegli appoggi Capito Nel Nella 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 personalità Nel Modo Di essere Lei Era Pochino Mi piacerebbe dire Selvaggia Se me lo permetti Vincenzo Lei era un po' Come Come Vivesse In una In una Foresta Capito Dove Dove Anche Lei non Ha paura Per esempio Dei 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 Don 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 Fatti Saltare Adosso E In quella Strada Nessuno Passa Don Fatti Legare Al Pano E Le tue Mani Ti Fanno male Don Che Non Sente Dolore Quando Il Freddo Gli Arriva Al Cuore Quello Ormai Non Dato Tempo E Se N Andato Soffiando E Dato Ma Dato Acqua Di Mare Chi Si Bagna Vuole Anche Il Sole Chi La Vuole Per Una Notte C'è Chi Invece La Prende A Pot Don Ma Senti Fiori Quando È Sola Ti Fanno Fuori Donna Cosa Succederà Quando A Casa Non Tornerà Quello che amava maggiormente Mimì non era tanto il brano quanto il padre del brano infatti lei ha avuto sempre questo desiderio quando era Baldan di cantare Baldan quando era Mimmo Cavallo di cantare Mimmo Cavallo Gragnaniello, Gragnaniello cioè lei, Fossati, Fossati cioè lei aveva questo desiderio di entrare dentro qualcuno e di crearsi questa nicchia dentro questo qualcuno quasi una forma di complicità quasi un volersi impossessare teneramente di un messaggio, di una formula di vita quindi tutti questi passaggi di Mimì attraverso queste partiture musicali hanno tutte questa caratteristica periodi della sua vita nei quali lei è riuscita a familiarizzare con l'autore e con il compositore finendo per creare un sodalizio talmente affascinante talmente credibile che poi insomma l'ultimo fu Maurizio Fabrizio se lei avesse continuato a essere qui sicuramente Maurizio gli avrebbe fornito ancora spunti meravigliosi per esprimersi tutto il periodo di Claudio per esempio di Claudio Baglioni quando lavorò con Claudio che fu un altro suo compagno di viaggio molto importante perché mi ricordo che fece Mimì Gesù è mio fratello e le lacrime di marzo che è un pezzo che annuncia proprio questa sua andata via a distanza di tanti anni ascoltando quella canzone si ha proprio l'idea che lei il saluto l'avesse fatto l'avesse pronto già da molti anni prima avrei voluto a un certo punto fermarla avessi avuto questo talento di due mesi prima che lei se ne andasse sono andato molto vicino a questa possibilità perché lei viveva a Calvi dell'Umbria e in questa casa in cui era in affitto lei mi disse che vedeva tutti questi topi queste cose così e quella casa per lei non era più ospitale sa in campagna io credo che tutto sommato lei avesse anche esaurito un po' questa vena rurale questo fatto di vivere la campagna così forse era arrivato il momento per lei di fare un pochino marcia indietro e tornare nella città dove avrebbe forse ripreso un pochino più di contatti io ero un po' impressionato da quella telefonata la mandai a prendere da Giorgio, quest'amico mio e la portammo a casa da me appena giunse a casa lei si guardò un pochino intorno e disse come si sta bene però quando c'è piatto di minestra pronto quando ci sono le comodità io la pregai in ginocchio di non andare via l'avrei tenuta a casa mia ci avrebbe avuto la sua stanza, il suo bagno le sue comodità l'avrei portata dove desiderava però lei mi disse no io devo sistemare le mie cose a Calvi devo stare almeno due mesi a Calvi per raccogliere i miei stracci le mie appendici e poi possiamo riparlarne allora siccome lei non poteva ritornare in quella casa io le procurai attraverso un'amica di mia sorella un'ospitalità in casa di questa ragazza e lei ci stette un mese e mezzo e lì si riprese tutte le sue cosine e poi però fece questo salto nel buio di Busto Arsizio andò a vivere lì e chiaramente poi è accaduto quello che è accaduto però quando se ne andò da casa mia io la guardai con una tenerezza come fosse Charlie Chaplin ero commosso ero volevo fermarla ma non si vede che non doveva andare così si vede che la doveva fermare lui è morta come un cane fare questo venerdì maledetto e fino alla domenica mi chiama Renato? la domenica poveriggio io accendo un attimo e vedo da una parte perché c'è due televisioni sempre da una parte il telegiornale la foto di Mimì dall'altra Mara che piange guarda venire e Renato ha il telefono Renato che c'è? mettete seduta perché c'è Mimì? perché Mara? ma che? l'hai mai invitata nel canto? non mi sono mai azzardata quello è nuovo non ci ho mai provato e Mimì bisognavano usarla per comprenderne la presenza una volta superato questo test sarebbe stato impossibile confonderla o peggio non considerarla il suo migliore pregio? riuscire a guardarsi dentro il suo peggior difetto? quello di cercarsene uno a tutti i costi un vezzo? grattarsi la testa come per stanare un'idea un pensiero fisso? creare disordine per riordinare una strategia? fingere di essere felice un legame indissolubile? scialli, cappelli e guanti un bisogno? riuscire a ridere di tutto le canzoni più ascoltate? patapata, san cosè, le mantellate, spani charlem le sue muse? Aretha Franklin, Johnny Mitchell, Sarah Vaughan, Billy Halliday e naturalmente e naturalmente Mimi, Renato e Loredana sotto il titolo la costruzione di un amore Ivano Possanti nel testo originale mi ha scritto per il condone edilizio presentare domanda io non credo che sia così complicato costruire un amore basterebbe eliminare la tangente voglio un amore senza pizzo ma con tanti merdetti oh no grazie